Il Vescovo ha elevato la parrocchia di Santa Costina del Pontale, dove era costruito questi mali, la santuaria aperta, la venerazione e il culto è andato così in via a questa devozione, così che il genno di amore e di dolore della Vescovo richiama a tanti cuori e sono fonte di consolazione, di riparazione e di guarigione, ragione e buono. Allora, così abbiamo completato i saluti e ho salutato Gesù con il canto dell'adorazione e le invocazioni, ho salutato voi, ho salutato la Vesce Maria, ora insieme a iniziamo il nostro rosario, che cercheremo di concentrare senza riflessire in particolare, enunciando i misteri, alternando i canti e la preghiera delle decine, che non so, forse avete magari già pensato un po' in articolare, ecco, e così ci concentriamo nella preghiera dell'osario, cosa importantissima, cosa importantissima, perché sia nel cuore, perché sia nella chiesa, in parrocchia e anche nelle famiglie, l'osario è la custodia del bene, perché nell'osario c'è la fede, l'amore di Maria e nell'osario si contempla il morto di Gesù, come ci ha detto nella sua bellissima lettera, quando ha aggiunto ai misteri grandiosi, gloriosi e gloriosi, i misteri luminosi di Beato Giovanni Pausa, allora preghiamo di rosario, nel nome del Padre, del Figlio e del Spirito Santo, Amo.